Ecco bene, adesso questa è una lastra sulla quale ho fatto appunto una deposizione, accumulazione di foglie, erbe, fiori raccolti nel giardino e ora tra poco andrò a rimuovere tutto questo e vedrò che cosa la natura avrà combinato in questi due giorni di attività su queste foglie abbandonate, vedremo cosa avrà dipinto, sono curiosissimo di vedere cosa succede, poi farò una piccola ripresa dopo aver fatto la rimozione di tutto questo. Mi sembra già bellissimo, vedi questa è una tela di ferro, bene adesso vado a vedere cosa è successo.